Primo trapianto di rene al San Salvatore, effettuato con il robo chirurgico Da Vinci. Il paziente e il donatore sono già a casa e stanno bene. All'uomo molisano è stato impiantato il rene e donato gli dalla sorella. Si apre così un nuovo corso e una nuova applicazione per la chirurgia robotica che segna una svolta nell'attività dei trapianti, non solo all'Aquila ma a livello regionale, riducendo la sofferenza del paziente e riducendo pure i tempi di attesa. Abbiamo iniziato la scorsa settimana, abbiamo fatto il primo trapianto da vivente, da donatore vivente. Siamo orgogliosi perché siamo entrati nel piccolo gruppo di centri dove si fanno i trapianti robotici. In Italia sono 4-5 quindi noi stiamo lì. I vantaggi di questa metodica è sempre la minima similità della parte così laparoscopica. Per quanto riguarda invece proprio la robotica vera e propria, ci garantisce dei movimenti molto precisi, una maggiore rapidità nel fare le suture e un controllo del sanguinamento molto alto. Oltretutto il robot ci magnifica molto l'immagine, addirittura ci può aumentare l'immagine 10 volte, per cui la visibilità è eccellente. Con questa tecnologia noi riusciamo ad entrare pure in un archivio europeo, per cui l'Aquila come centro trapianti fa parte di questo centro. L'ideale sarebbe con l'utilizzo del robot, con tutti i vantaggi che il dottor Di Clemente ha esposto poco fa, e di poter aumentare il numero di donatori. In conferenza stampa, in ospedale, il direttore generale dell'ASD, Rinardo Tordera, affiancato dai medici e anche dalla rettrice dell'Ateneo e dal sindaco, ha parlato dei benefici ad un anno dall'entrata in funzione del robot, utilizzato prima in urologia e ora che trova nuove applicazioni. Ha alzato decisamente l'asticella a livello qualitativo. Nel campo dei trapianti di rene, l'uso dei bracci meccanici è infatti l'ultima delle applicazioni del Da Vinci. Grazie alla tenacia dei chirurghi, alla grande spirito di squadra che si è creato, questo investimento lo stiamo valorizzando al massimo, e devo dire che a parte questa nuova attività nell'ambito dei trapianti di rene, anche nella chirurgia in generale sono stati fatti molti passi avanti, è aumentato il numero degli interventi, è aumentata la mobilità attiva, quindi credo che nel corso di questo anno si implementerà decisivamente e si affermerà in maniera totale.